E parleremo fra poco perché Simoni si sta andando in porta, c'è stata l'espulsione di Zappalà Pele, Pele, da dietro Simeoni, poi ancora Simoni, Rinaldi è solo, Rinaldi è solo Spada Fabrizio, Rinaldi Che gioca in maniera vecchia, vecchia stampo, Simeoni, tagliare Simeoni Ecco il ricordo dello zio Patrizio Si tratta di Alessi, Alessi deve andare nel pozzetto, Simoni ci prometti Davide Romiti, 3 a 2 Gianetic Due finte e mezzo per Chiarelli Marco Chiarelli 4 a 2 Civitavecca che attacca, Gianetic verso Romiti Romiti Davide Romiti Partita accesissima quando sono passati due minuti dall'inizio del terzo tempo Rinaldi da quest'altra parte può provare il tiro Rigore per il Civitavecchia Grazie a Fabrizio Rinaldi Fabrizio Rinaldi 6 a 4 Gianetic avanza Simonic Come è nuova da veloce Simonic Munenoni è solo La palla che gli arriva Andrea Munenoni 7 a 4 Rinaldi Chiarelli Chiarelli può tirare Marco Chiarelli 8 a 5 C'è accretuto fino all'ultimo al buffo forciuto Castello solo Castello Uga salvato ursino Simonic Simonic Romiti Davide Romiti Munenoni In mezzo a Simonic Provera Simonic 10 a 7 Ci ha pensato per le